Sindaco Dischi, i lavori sulla superstrada sono iniziati da tempo però pare non vedano mai la fine. In realtà i lavori sono finiti, quello che manca è il collaudo finale che dovrà essere fatto a giorni quando ci dicono gli uffici provinciali e l'allaccio della fornitura dell'Enel, cosa che abbiamo già provveduto a richiedere noi come comune e credo che tra qualche giorno ci arriverà la fornitura sperando che la provincia collaudi al più presto un'opera che ripeto è ultimata. Quindi veramente siamo a titoli di coda nel senso che quello è un problema risolto e che finalmente vedrà una sopraelevata, cosiddetta sopraelevata, da sempre pericolosissima, soprattutto di notte con questo problema che non avrà più, cioè sarà illuminata a breve. Per Natale facciamo il regalo agli schitani. Speriamo di farci questo regalo perché credo che sia un fatto veramente importante averlo.